Quando, parlando con Lucrezia, avevi promesso a lei, per il tuo piacere, che se lei non ci fosse stata, tu avresti abbandonato il programma, no? Ma chi te l'ha fatta? Tu l'hai detto a sta cosa? A chi l'ho detto? A Lucrezia. Ma te l'ha detto lei? No, 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 abbiamo impuntato, c'è anche la registrazione, se vuoi. Non ho mai detto che avrei abbandonato il programma. Gianni, sbaglio? Sì, avevi detto che avrei corteggiato a fuori. Ha detto che avrei continuato. Se Lucrezia non vuole continuare con me, non ha senso che io resti nel programma, perché non c'è nessuna donna che mi interessa. Ora stai dicendo, non ha senso che io resti nel programma, perché non c'è nessuna donna, che è totalmente diverso da dire. Adesso Maria ti ha chiesto, c'è qualcuna che ti interessa, a quanto pare non c'è nessuna donna che fa passare tre settimane da Lucrezia. Quando hai finito? Ho finito adesso. Sicuro? Sì, sì. Ho voglia aggiungere qualcosa? No, sto a posto così per ora. Che poi resti male dopo. Vai, rispondi. Allora, nonostante non ci fosse stata nessuna persona all'interno del parterre femminile, con la quale io mi potevo relazionare, da come vedi oggi sono scese tre donne. E quindi anche se sto senza frequentazioni, chi ti dice che un domani da lì può scendere una ragazza che mi piace? Allora, se tu dici una cosa del genere, lo fai per fare bella figura? Per forza. Per fare bella figura nei confronti di chi? Di fronte alla ragazza che stai corteggiando. Perché questo è... Quale ragazza? Lucrezia, armata. Stavamo a parlare di Lucrezia. Allora, fai nome e cognome, stai parlando di Lucrezia. Esattamente. Se tu dici una cosa così bella, dici, oh, se tu te ne vai non c'è senso che resti, è normale che qua verranno comunque donne, prima o poi, perché per forza vengono delle donne nuove. E quindi... Grazie.